Sono 57 i nuovi soggetti che hanno contratto il coronavirus in provincia di Agrigento nelle ultime 24 ore, 7 i nuovi ricoveri in ospedale, 46 le persone guarite e 2 i decessi. E questo è il quadro riepilogativo della situazione dei contagi in provincia, contenuto nel bollettino diffuso questa mattina dall'ASPE e aggiornato alla situazione di ieri, 17 novembre. La situazione resta sempre critica all'ospedale di Agrigento dove altri 4 ricoveri hanno portato a 43 il numero dei pazienti ricoverati, 11 invece le persone ricoverate al Giovanni Paolo II di Sciacca, 6 quelle presenti nel Covid Hotel. La situazione dei contagi rimane invariata a Sciacca e nell'Interland. In città non si registrano nuovi casi da due giorni e gli attuali positivi restano 38, 35 a Ribera, 46 a Santa Margherita a Belice, 44 a Sambuca di Sicilia, in questo caso uno in più rispetto al precedente bollettino, 13 a Menfi, 11 a Montevago e 11 a Caltabellotta. Aumenti significativi dei contagi continuano invece a registrarsi a Canicattì, dove adesso le persone positive sono 167 e cioè 5 in più rispetto al giorno precedente. A Favara, anche qui 5 casi in più per un totale di 68 persone positive e a Licata, dove 6 nuovi casi hanno portato il totale degli attuali positivi a 78. Non va meglio in alcuni piccoli comuni come Naro, dove sono 7 i nuovi soggetti risultati positivi al Covid per un totale di 53 casi e Palma di Montechiaro che registra 12 nuovi casi che hanno portato a 65 il totale degli attuali positivi. 6 nuovi casi anche a San Biagio Platani che raggiunge quota 29 e 5 ad Aragona per un totale di 38 attuali positivi.